Siamo con Ernesto Fontetrosciani che oltre ad essere consigliere nazionale della Fite Treccante è anche responsabile della disciplina della montata lavoro, sempre più marcata Fite Trek. Sì, veramente stiamo vedendo ottimi risultati perché qua a Città di Castello abbiamo oltre 100 partecipanti che fanno, se ci mettono in tutte e quattro le prove e molta partecipazione dei giovani è quello che sta puntando alla federazione. I giovani sono il futuro quindi avremo sicuramente un seguito per questa disciplina che sappiamo è ricca di medaglie anche a livello internazionale. Sì, anche a livello internazionale e poi vediamo che proprio veramente i giovani stanno crescendo. Un ringraziamento va a istruttori che si stanno impegnando nei vari circoli e veramente in forte crescita. Poi un ringraziamento va fatto anche al Mipaf che sta facendo un buon contributo, ci sta dando specialmente per i cavalli italiani che vengono utilizzati nella monta da lavoro. Bene, non ci resta ora quindi che conoscere i nomi dei vincitori di questa tappa del trofeo Mipaf di monta da lavoro tradizionale di Città di Castello. Vi avevamo promesso di portarvi uno dei vincitori di questa tappa del trofeo Mipaf del campionato italiano di monta da lavoro ed eccolo qua e che campione è Paolo Sensi visto che il suo titolo italiano si aggiunge ai tanti che ha già vinto tra cui un titolo di campione europeo quindi un campione veramente di questa disciplina ma a lui volevamo chiedere quali sono le caratteristiche ideali per un cavallo da monta da lavoro. Allora, secondo me anzitutto un cavallo da monta da lavoro deve essere un cavallo che deve avere una meccanica che possa permettere alcune figure, è chiaro un cavallo più ha costruito facilmente, più ha costruito con una coppa bassa e più diventa facile tutto il lavoro. Poi il cavallo deve avere un grande addestramento di lavoro in piano che è la base di tutto quello che ovviamente sono le figure di monta da lavoro perché non ci dimentichiamo che sono riportate in chiave sportiva quelle che sono le figure del buttero, quelle che sono le figure dei mandriani. Il cavallo per eccellenza a me, è sempre un'emozione molto soggettiva, a me piacciono dei cavalli un po' energici, virili che magari hanno bisogno di un pizzico di gestione da parte del cavaliere. Capita pure che questi cavalli a volte li fanno fare delle magre figure però poi quando hanno cuore ti regalano belle soddisfazioni come queste. Lui si chiama quindi? Navart. E ha quanti anni? Undici anni. E' un sale italiano, come nasce? Nasce con madre maremmana e padre arabo. Quindi è un incrocio inusuale per certi versi però rientra un po' su questo tipo di cavallo che ti piace montare? Sì, diciamo ha una caratteristica fondamentale che è la robustezza, la tenacia, la testardaggine del maremmano, quel pizzico di sangue aggiunto dell'arbo o altre razze che fanno poi di un cavallo che meccanicamente riesce a darti più cuore, è un cavallo più sportivo, meccanicamente morbido, facile, groppa elastica e poi come vedete anche un po' indisciplinato ci sta bene perché fa parte del... Il campione italiano gli... Io lo permettiamo? Sicuramente sì. Quindi grazie a Paolo Sensi, neocampione italiano qui a Città di Castello e tra poco vi daremo anche notizia degli altri vincitori delle categorie. Allora abbiamo anche i nomi degli altri campioni italiani che si sono laureati qui a Città di Castello. Per la categoria giovanissimi ha vinto Serena Betti su Ammetata, Serena Betti viene da Talamone in provincia di Grosseto, per la categoria Juniors Elena Castra di Monte Fiascone in provincia di Viterbo su Ninche, per la categoria Cavalli debuttanti Filippo Gozzi che viene dall'Emilia Romagna su Coral Ronzi ed infine per la categoria Amatori Sofia Pacini su Principessa. Sofia Pacini è un amazzone qui di Città di Castello. Ovviamente Paolo Sensi con cui abbiamo parlato poc'anzi, campione italiano della categoria Open, ma abbiamo anche i vincitori delle categorie inserite nel tropeo Mipaf di Monta da Lavoro, per la categoria Cavalli Giovani ha vinto Luca Panunzi su Rosco, per la categoria Cavalli in allestramento Alessandro De Romanis su M Nevara delle Selvacce ed infine per la categoria Cavalli professionisti Filippo Gozzi su Istrische Ice.